Si è svolto stamattina il periodico giro di visita ai cantieri delle opere pubbliche ultimate o in via di realizzazione, al quale il sindaco Alessandro Betta e l'assessore Stefano Miuri hanno invitato i consiglieri comunali. La visita è partita dalla scuola di Bolognano, per proseguire al centro storico di San Martino, alla strada per Troiana, nei pressi della falesia Policromuro, all'asilo nido delle Braile, concludendosi alla casa sociale di Romarzollo. Presenti per l'area tecnica del comune l'ingegnere Lucia Burigo e il geometra Paolo Pedrotti. L'intervento alla scuola di Bolognano consiste nel suo adeguamento statico e sismico ed è suddiviso in tre lotti. Il primo è già stato realizzato l'anno scorso, mentre il secondo e il terzo, in via di realizzazione, riguardano rispettivamente le opere in elevazione e il miglioramento estetico ed energetico. L'intero intervento costa 1.270.000 euro. I lavori si concluderanno a metà ottobre. Il centro storico di San Martino è stato interessato da un intervento di nuovo arredo urbano, nell'ambito di un programma di abbellimento e valorizzazione delle frazioni iniziato nel 2010. Oltre alla nuova pavimentazione in cubetti di Porfido, in luogo dell'asfalto, sono stati completamente rifatti i sottoservizi, rete dell'acquedotto e nuova illuminazione pubblica prima con figli aerei ed è stata posata la predisposizione per la fibra ottica. L'intervento è costato 240.000 euro. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori di restauro del lavatoio e delle due fontane storiche, in accordo con la competente sovrintendenza provinciale, il cui costo sarà coperto dai risparmi ottenuti con il cospicuo ribasso dell'asta dell'appalto. Sulla strada che dalla falesia Policromuro conduce a Troiana, il comune ha installato per una lunghezza di circa 300 metri un guardrail con anima in acciaio e rivestimento in legno, sia per un miglior aspetto, coerentemente con il luogo di pregio naturalistico, sia per la sicurezza, in quanto la strada è percorsa da numerosi ciclisti. Al nuovo asilo nido dell'Ebraile, l'intervento in corso consiste nell'installazione di una piattaforma elevatrice che consente un migliore utilizzo del magazzino, del costo di 15.000 euro e di un impianto di trattamento dell'aria che migliora il microclima, evitando l'impianto di condizionamento, sconsigliato per un luogo frequentato da bambini e incoerente con un edificio a basso consumo energetico. Questo secondo intervento ha un costo di circa 40.000 euro. Nell'edificio si sta anche installando un impianto fotovoltaico da 20 kilowatt, nell'ambito di un più ampio intervento che riguarda anche la scuola materna di Vigne e la caserma della protezione civile, per un costo complessivo di 150.000 euro. I lavori in corso alla Casa Sociale di Romarzollo consistono infine in una radicale manutenzione. Saranno rifatti gli impianti di riscaldamento a pavimento ed elettrico, sostituita la caldaia, rifatto il pavimento in resina, sostituiti tutti i serramenti a risparmio energetico e fate tutte le tinteggiature interne ed esterne. I lavori, iniziati in luglio, saranno terminati prima dell'autunno.